Uomini e donne. Maria De Filippi non le manda a dire. In 4 e 48 ha messo in riga Alessandro vicinanza. L'ex di Ida Platano sempre più vicino a Cristina. Alessandro che si è reso protagonista di un duro litigio con Armando incarnato. Litigio che aveva spinto anche Maria a intervenire oltre che scatenare i commenti. Ma Maria che dice di Armando parliamo dopo? Alessandro ha ragione da vendere su Armando che sta in trasmissione da anni a scaldare la sedia e a criticare tutti. Non mi piace proprio l'atteggiamento di Maria onestamente che fa figli e figliastri. Inveisce contro Alessandro per ogni cosa mentre protegge come una mamma chioccia i suoi prediletti come Ida Barbara e Roberta. E ancora. Alessandro può stare poco simpatico ma sinceramente reputo questo atteggiamento verso di lui veramente aggressivo e feroce. Messo in croce. Uomini e donne. Maria De Filippi rimprovera Alessandro vicinanza. C'è gente che ha fatto e continua a fare di peggio. Ma non vedo e non ho mai visto riservato lo stesso trattamento. Ma. Ma non è stato questo il motivo della tirata d'orecchie di Maria De Filippi. A far arrabbiare la conduttrice è stato il comportamento tenuto nei confronti di Barbara. Dopo aver visto Alessandro tentennare davanti all'esclusiva che Cristina ha deciso di dargli. Barbara è intervenuta per dire. Lui rigira sempre la frittata. È questa la sua capacità e l'ha fatto anche con Ida. Secca la risposta di Alessandro. Pensa alle tue relazioni. A 50 anni hai chiuso con uno solo perché aveva la barba. Sei stata al centro ore per parlare di questo. Commento che non è piaciuto a Maria ha precisato. Cosa vuol dire a 50 anni non può appellarsi alla barba?